bella ragazzi sono haid e oggi torno con un nuovo video un nuovo trucco di magia con le carte ma prima di iniziare vi propongo una cosa era una cosa che avevo già proposto in un altro video ma stavolta è leggermente diversa perché in uno scorso video avevo detto che se sarebbe arrivato a 100 mi piace avrei pubblicato un tutorial di un trucco di magia a caso che non conoscevate ancora mentre questa volta voglio proporre la stessa cosa ma se questo video arriva a 100 mi piace pubblicherò il tutorial di questo trucco di magia così almeno sapete per cosa andate a mettere mi piace perché che tutorial andrete a vedere con il vostro mi piace questo a 100 mi piace ma ora iniziamo col trucco come vi ho detto è un trucco di magia con le carte quindi ci servirà un masto di carte quadri cuori fiori picche ma diversamente dal solito non ci serviranno tutte le 52 carte ma un po di meno più o meno fai conto due terzi del masto quindi magari circa così due terzi del masto un po meno di metà e cosa notiamo in questo massetto di carte che è diviso tutto in coppie di carte ovvero una coppia due coppie tre coppie un'altra coppia 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 e una carta sola che rimane singola in mezzo a tutto il massetto di carte accoppiate una carta che rimane solo la carta che è il k di fiori cosa faccio con il k di fiori lo vado ad appoggiare qui in modo che voi potete controllarlo e vado ora a dividere tutte le coppie del mazzo in questo modo coppia divisa coppia divisa coppia divisa tutte le coppie vengono piano piano divise e divise in due mazzetti in questo modo ora voglio mettere il k di fiori in uno dei due mazzetti a caso facciamo finta che sia questo il mazzetto e ci metto un elastico per tenere il segno e per farvi vedere che il mazzetto rimane questo e ricordarvi qual è il mazzetto dove va il k quindi lo metto qui più o meno in mezzo al mazzetto e ora voglio fare una cosa perché voglio prendere il k di fiori e trasportarlo nell'altro mazzetto infatti ora nel mazzetto dove ci dovrebbero essere delle coppie e una carta singola ovvero il k di fiori che rimane da sola in realtà notiamo che ci sono solo coppie 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 e che il k se n'è davvero andato dal mazzetto e nell'altro mazzo invece ci sono coppie 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 e una carta che rimane sola che poveretta rimarrà sempre sola ed è il k di fiori ok ragazzi questo era il video delle coppie della carta che rimaneva sempre sola io spero che vi sia piaciuto se è così mettete un bel mi piace e se volete il tutorial a maggior ragione mettete il mi piace perché a 100 pubblicherò il tutorial di questo trucco detto questo commentate scrivendo quello che volete magari senza la spiegazione del trucco se per caso la conoscete condividete perché come vi dico sempre condividere è molto importante iscrivetevi se non siete iscritti e ci vediamo al prossimo video che spero per voi sia un bel tutorial iscrivetevi se non siete iscritti e ci vediamo al prossimo video iscrivetevi al prossimo video